Scopriremo insieme i tempi di inserimento di Jens Piteroge nel Milan e con la maglia del Milan, ma certamente c'è già un dato che parla a suo favore e che lo descrive, l'ambizione. Chi segue da vicino il calcio norvegese dice soprattutto una cosa di Jens Piteroge, è affamato. Magari ha anche una visione più critica, lo dipinge in alcune situazioni di gioco, in alcune scelte di passaggio o di tiro in porta un po' egoista e forse sono due lati della stessa medaglia. Ma l'ambizione di Jens Piteroge, un ragazzo del 1999, è caratterizzata dal brevissimo tempo in cui ha reciso un cordone ombelicale importante. Ha giocato il giovedì sera con il Milan con la maglia del Böde Glimt e la settimana successiva era già a Milano, perché lo ha fortemente voluto, eppure Jens Piteroge per mettersi in viaggio per Milano ha lasciato casa sua perché Böde, la città del Böde Glimt, è la città di nascita di Jens Piteroge. Sono soltanto tre i giocatori del Böde Glimt che sono scesi in campo dall'inizio contro il Milan nel terzo turno preliminare di Europa League nati a Böde e uno di questi è Jens Piteroge. Dov'è Böde e perché è spesso, importante, solido, sostanzioso il cordone ombelicale fra un ragazzo come Jens Piteroge e la sua città? Perché siamo nel nord della Norvegia che è una regione, quella settentrionale della Norvegia che fa parte evidentemente del paese ma con tutta una sua identità e che solo negli ultimi decenni è cresciuta a livello calcistico e a livello complessivo nell'economia del paese. Prima era vissuta dal centro della Norvegia, dal sud della Norvegia come un'entità un po' a sé, un po' a sé stante, un po' staccata perché sapete nel nord della Norvegia ci si trova a nord del circolo polare artico, si intravede l'aurora boreale, ci sono i canti dei Sami, la popolazione indigena. Tutto questo ha lasciato Jens Piteroge per mettersi in viaggio, per arrivare a Oslo e poi per arrivare a Milano perché ha dovuto effettuare diversi scali prima di raggiungere Malpensa, prima di raggiungere Milanello e questo testimonia della voglia che ha questo ragazzo. Poi scopriremo anche in maglia rossonera se sarà rapido, se sarà tecnico, se sarà affamato, se sarà egoista come è stato nel Böde. Certamente la sera di Milan Böde Glimt a San Siro, al fischio d'inizio del direttore di gara, il giovane Jens Piteroge aveva segnato 15 gol e fatto 9 assist nelle prime 20 partite stagionali della sua squadra. Quindi è un ragazzo che era abituato anche prima della partita con il Milan a fare quello che gli abbiamo visto fare nella gara contro i nostri giocatori. Jens Piteroge ha saltato che sì sull'azione del primo gol del Böde Glimt e ha messo la palla in mezzo per l'1-0 dei norvegesi, ha segnato il gol del definitivo 3-2 e poi ha fatto un'azione importante a tagliare la linea difensiva del Milan nei minuti di recupero per dare al suo compagno di squadra che si trovava al centro dell'area di rigore rossonera la palla del 3-3 che poi sulla conclusione è finita alta. È un ragazzo che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili norvegesi e nelle ultime settimane è stato convocato anche nella nazionale A. Suo fratello Runar è una famiglia di calciatori, anche lui gioca a pallone, anche lui è di proprietà del Böde Glimt, anche se Runar Höge in questo momento sta giocando nel Grodor, un'altra squadra norvegese in prestito per farsi le ossa. Quelle ossa che Jens Piteroge ritiene in cuor suo di essersi già fatto. Ha voluto fortemente incontrare i giocatori rossoneri e salutare calorosamente i giocatori rossoneri alla fine della partita di Europa League perché sognava, perché sperava, perché ci teneva, perché sentiva di essere pronto e di avere grinta e determinazione per fare il grande salto, il grande viaggio, la Serie A, la grande città rispetto alla sua Böde che resterà sempre nel suo cuore, certamente, e non ci sono dubbi, però aveva voglia di spiccare il volo Jens Piteroge e adesso al Milan, a Milanello, ha tutta l'opportunità per dare continuità alla sua rotta di crociera, per dare continuità al suo rendimento, per fare in modo che i guizzi che gli abbiamo visto fare all'inizio della stagione e anche nella partita contro il Milan a San Siro non rimangano a sé stanti ma siano parte di una crescita, parte di uno sviluppo, il Milan ha creduto nel ragazzo negli ultimi mesi e non soltanto per quanto visto in Europa League e il Milan naturalmente confida che la fame di Jens Piteroge si traduca in moneta sonante, in un rendimento veloce nel gruppo, in un inserimento veloce nel gruppo, in un rendimento importante e continuo condito, caratterizzato dai colpi che certamente fanno parte del bagaglio e del repertorio di Jens Piteroge, un ragazzo del 1999 che sta iniziando la sua avventura nella C Milan di Milano.